E' tutti in mano questa lista dei libri, vi dico le priorità, ovviamente nessuno pensa che dobbiate acquistarli tutti, semplicemente sono dei consigli, io vi consiglio caldamente i cosiddetti libri illustrati, cioè quelli con molte immagini, di questi imprescindibili sono quelli della Fidon Press, della collana Vitamin, per la pittura trovate, ce ne sono due volumi, forse uno è anche un po' più difficile da trovare, il primo, Vitamin P che sta per Painting e Vitamin P2, c'è anche la sua versione nel disegno che è Vitamin D e Vitamin D2, ovviamente ognuno si orienta a seconda del proprio ambito, per la scultura c'è Vitamin D3, un altro volume importante che vi ho citato è Sempre Fidon Press, pittura oggi di Tony Godfrey, lo trovate anche in italiano appunto, e questi diciamo per la pittura i primi tre li considero molto importanti. Per la fotografia vedete che c'è anche un Vitamin pH, vedete che sono suddivisi per tipologie d'arte, per media, quindi una volta detto che sono preferibili i libri della Fidon Press, vi segnalo però anche l'unico tra i miei che vi posso segnalare, anche se è un po' datato, è Laboratorio Italia, nuove tendenze in pittura, che è stato il primo di quella che poi è diventato una collana per la Giovanna e Levi e se infatti notate che in fotografia c'è anche Laboratorio Italia, la fotografia nell'arte contemporanea, sempre Giovanna e Levi, così come in scultura c'è Alessandra Galasso, Laboratorio Italia, giovani scultori italiani. Sono tre volumi, il mio è quello bianco, poi c'è quello rosso e quello nero, qualche volta si trovano anche nei bookshop dei musei, il mio risale al 2005 o 2006, non ricordo bene, quindi contiene alcuni pittori ovviamente una selezione avrebbe potuto essere più ampia, vedrete che la maggior parte di quelli che ho inserito sono rimasti, qualcuno è scomparso, è fisiologico. questi sono i volumi, la prima scelta, il primo acquisto è nei libri illustrati. Ho messo un po' di saggistica, qualcuno l'abbiamo citato prima, di questi io consiglio caldamente Donald Thompson, lo squadro da 12 milioni di dollari, e spero che già il titolo vi evochi qualcosa. Eh? No. Bravi. Damian Irst, ok. Damian Irst è autore anche di un curioso manuale per giovani artisti, che tutto è tranne che è un manuale per giovani artisti, e la storia della sua esperienza, è molto interessante per capire come funziona il discorso dell'arte anche all'estero, diciamo. Molto interessante, carino e anche poco dispendioso è Sarah Thornton, il giro del mondo dell'arte in sette giorni. La trovate curiosamente nella collana di viaggi di Feltrinelli, non ha nulla a che vedere con i viaggi, si chiama Giro del mondo dell'arte in sette giorni semplicemente perché suddivide il sistema dell'arte in sette tappe, partendo da lo studio dell'artista, seguendo con la galleria, la casa d'asta, la fiera, la biennale, in particolare la biennale di Venezia come evento più importante al mondo delle biennali e via di seguito. Cioè individua sette situazioni topiche del mondo dell'arte che so che riassumono il sistema dell'arte e quindi fanno capire come funziona ogni singola scatola, diciamo, che compone il mondo dell'arte. L'ultimo nel primo foglio, Claudio Borghi Aquilini, non vi spaventi il fatto che è diventato recentemente il consigliere economico della Lega, è in realtà una persona assolutamente carina e colta, è un docente dell'Università Cattolica di Milano per quanto riguarda l'economia dell'arte. Ha scritto questo libro che aiuta anche a capire come funziona il mercato dell'arte e si chiama Investire nell'arte, di Sperling e Kupfer. Qui, girando il foglio, entriamo già più nel torbido, in quelle che sono alcune mie particolari preferenze e perversioni. Creatività. Vi ho già citato Austin Kleon, Ruba come un artista, libretto smilzo, prezzo contenutissimo, si legge in un'ora. Giulia Cameron, più impegnativo, la via dell'artista, un po' più costoso, credo che costi sui 25 euro, però è un modo per fare una sorta di workshop che è disciplinato tutto dal libro. Se seguite le istruzioni e lo leggete un capitolo a settimana, questo percorso, che è un percorso che fate con voi stessi, ma che è inerente all'attività creativa, dura 12 settimane. Ve lo dico già, è impegnativo, perché io l'ho fatto. Sociologia, ho messo degli argomenti generici che mi interessano, Franco Bolelli, anche per affetto, è un filosofo contemporaneo, possiamo dire, al limite con la sociologia, un nicciano pop, trovo i suoi saggi molto ispirati, vi consiglio Cartesio non balla, che ha un sottotitolo che è sulla superiorità, sulla definitiva superiorità della cultura pop, e poi con il cuore e con le palle, che è molto bello. Ovviamente un classico è Zygmunt Bauman, vita liquida, e anche De Bono, pensiero laterale. Spiritualità, per quanto possa sembrarvi strano, perché tutto quello che fate ha a che fare con quello che siete. Avrei potuto scrivere psicologia o altro, ma la sostanza è che quando parliamo di arte non parliamo mai solamente di arte. Ci sono delle cose che possono aiutare a superare determinate restrizioni che vi siete autoimposti, limitazioni per quanto riguarda le vostre ambizioni, limitazioni per quanto riguarda quello che voi credete di poter fare, limitazioni in genere alla espansione della vostra vita. Vi consiglio caldamente Neil Donald Walsh, che è conosciuto perché ha fatto una serie di libri che si intitolano Conversazioni con Dio, che sono molto belli, però vi consiglio di leggere Quando tutto cambia, cambia tutto, a proposito di uscire dalla zona di comfort. Lo stesso anche per Joe Vitale, Expect Miracles. Joe Vitale è un discusso autore della cosiddetta New Age americana, in realtà è una corrente che si chiama New Photo, nuovo pensiero. Comunque questo personaggio è diventato uno dei guru di questo nuovo pensiero, pubblica molti libri, manuali di autoaiuto in particolare, è una curiosa storia perché è stato per dieci anni, ha fatto la vita del barbone in Texas, cioè è stato un barbone, un homeless, e se ne è tirato fuori studiando, leggendo i libri di autoaiuto fino a che è diventato lui stesso un guru. Psicologia, un libro fondamentale che dovete leggere. Si legge veloce, ed è come una fiaba, ma è un libro che può cambiare la coscienza. Spencer Johnson, Chi ha spostato il mio formaggio? Questo è un libro che si usava a dare anche negli anni 90, soprattutto in ambito aziendale, i CEO o comunque i grandi manager lo davano ai propri manager per imparare a vivere e ad accettare i cambiamenti nelle condizioni di vita. Chi ha spostato il mio formaggio è una metafora, nel momento in cui il protagonista è un topo, ed è la storia che una persona racconta ad altri suoi amici e che però è piena di significati. Questo topo è abituato a mangiare un certo tipo di formaggio in un particolare luogo, a un certo punto glielo spostano e ovviamente succede di tutto, non trova più il formaggio, ha fame e quindi deve ingegnarsi per trovare il suo formaggio. È una storia molto interessante, molto utilizzata, ripeto, in ambito aziendale, è un bestseller internazionale. Denaro, ne abbiamo parlato, questi sono tutti i libri validi, io vi consiglio Steve Nobel, Il gioco della prosperità, perché la prosperità può anche essere vissuta come un gioco, cioè la capacità di capire che il denaro è una metafora ed è una forma di energia, una forma di energia di scambio, per cui se abbiamo problemi con il denaro abbiamo problemi con lo scambio di energie e lui vi spiega in dettaglio che cosa si può fare per superare questo problema assillante del denaro. In ultimo sulla narrativa, forse qualcuno conosce Steve Martin come attore e anche come regista, un regista e un attore di commedie brillanti americano e anche un grandissimo collezionista d'arte. Ha scritto questo romanzo che io trovo molto interessante, si chiama Oggetti di bellezza. Il romanzo racconta l'ascesa di una ragazza, anche musicista, di una ragazza uscita dagli studi universitari che intraprende la carriera prima passando, iniziando a diventare una commessa durante le audizioni delle aste, cioè entra in una casa d'asta, poi impara a fare business, poi diventa assistente di un gallerista, poi diventa se stessa una gallerista, da gallerista diventa la gallerista più cool di New York, fino all'apice, all'apoteosi del successo e all'inevitabile crollo della bolla economica regata all'arte e successiva all'attentato alle due torri, anzi no, sì, successiva all'attentato alle due torri. Comunque è un romanzo che racconta però in verità come funziona l'arte contemporanea ed è molto facile da leggere, cioè appunto è un romanzo, però è abbastanza veritiero e verosimile. Questo è quanto. Allora, prima vi ho fatto vedere Neorauk, vi ho detto che un modo per focalizzare l'attenzione sullo stile è quello di operare anche sulla tavolozza cromatica, se siete dei pittori, ma anche se siete dei fotografi. Vi faccio vedere questo artista. Sia Neorauk che questo artista lavorano per un'importante galleria new yorkese che è David Zwirner, che è francamente una delle più importanti gallerie. Tolti supercolossi come Gagosian, Malboro, piuttosto che altre gallerie che sono come delle multinazionali, però diciamo nell'ambito delle gallerie che contano, Zwirner è sicuramente un nome. Il lavoro di Marcel Zama ha delle caratteristiche precise. Se io vi faccio vedere questa immagine... Mi spegnete la luce davanti, per favore? Mi dispiace che la definizione... la definizione purtroppo non è il massimo. Comunque, se notate, la palette cromatica è molto limitata. Verde, marrone, rosso, grigio. C'è una limitazione, non usa qualsiasi colore. Se aprite un altro lavoro, trovate più o meno una ricorrenza cromatica. Questo è un artista che ha iniziato facendo lavori eminentemente su carta, poi è passato alla tela, oggi fa sia sculture che video e addirittura film. ha organizzato coreografie di danza. È un pittore molto noto, collezionato da grandi attori di Hollywood. L'ultimo suo film conta come attrice una dei Sonic Youth, la band. Quindi ha imparato a muoversi in un certo ambito. Ha fatto la copertina di un disco, quella di Beck, ed è un artista molto apprezzato. Ovviamente l'origine è illustrativa, ma lui ha saputo creare un proprio universo mentale e portarlo a un livello molto alto. Questi sono alcuni dei diorami che lui fa, per esempio. Sono sculture abbastanza grandi. Curiosamente, notate cosa c'è dopo il VVV? Phaidon. Questa è una scultura, per esempio. Mantiene le stesse caratteristiche del suo lavoro pittorico, grafico. In realtà lui si rifà un famoso outsider americano, che si chiama Henry Darger, che ha influenzato molto una certa generazione di artisti americani post-9-11 e che ha dato il via al cosiddetto dargerismo contemporaneo. Ci sono diversi artisti che si sono ispirati a lui, anche italiani, meno famosi. Ok, questo era per farvi vedere un altro livello di eccellenza. Vi ho parlato della scuola di Lipsia. Un altro della scuola di Lipsia è questo, se l'ho scritto giusto. La prima galleria che vedete è una delle gallerie che è stata molto importante nella diffusione degli artisti della scuola di Lipsia. Allora, io vi ho parlato della qualità. Cioè, noi abbiamo visto delle cose stamattina. Adesso vi faccio vedere delle cose per le quali ci vuole sicuramente una certa capacità pittorica. Lui lavora ovviamente sullo spazio, il tema suo è lo spazio, ma notate come non è assolutamente semplice da comprendere. Cioè, è semplice da liquidare, non so come dire. Questa è piccola. Vediamo questa. Possiamo farla. E purtroppo è anche la definizione dello schermo che non è un granché, eh? No, ragazzi, così non si capisce proprio un'ostia. Proviamo a vedere... Perché mi sta cercando con Ask? Io voglio cercare con Google. Ok, allora facciamo così. Cambiamo. Un altro esponente della scuola di Lipsia. Lui è Mattias Weischer. Dal video non si capisce, ma la qualità pittorica è eccellente. è il discorso di organizzazione dello spazio, la confusione dei piani, o comunque una certa indeterminatezza, una certa non linearità dell'immagine, è uno dei suoi elementi. Ovviamente c'è molto di metafisico in questi lavori, c'è molta attenzione allo spazio e agli interni. Anche lui è uno dei pittori più apprezzati, eh? Recentemente. vediamo un'altra immagine che vi può far capire la complessità. No. va con la manovella, eh? Cambiamo. Daniel Pitin è un altro artista interessante, non è della scuola di Lipsia, è un artista originario della Repubblica Ceca. Anche qui, l'elemento è non linearità, sovrapposizione di piani, di figure, di episodi narrativi, simultaneità, intreccio, direi che è proprio la parola base e non linearità, perché la realtà sta diventando così, una sovrapposizione continua di cose che non è più leggibile nella semplice sequenza narrativa. e quindi la pittura contemporanea rende conto di questa confusione di piani, che forse è mutuata in parte anche dalla cultura digitale. Vediamo un altro suo lavoro, poi ve ne faccio vedere un altro tipo di artista. vi faccio vedere un altro artista adesso. Allora. 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 Questo è un artista di origine francese che si è trasferito negli Stati Uniti negli anni 80 con la sua famiglia, a Jules de Balincourt, c'è stata una mostra l'anno scorso a Reggio Emilia, alla Fondazione Maramotti. È un artista molto apprezzato, i suoi temi principalmente sono i luoghi di evasione collettiva, che rappresenta spesso situazioni in cui ci sono fuochi d'artificio, grandi masse di persone che vanno in luoghi dove fanno picnic o raduni o gite nel bosco. è un'applicazione di un immaginario diciamo campestre, folk, non so se si nota, ma questi sono personaggi che attivano questi fuochi d'artificio. Ma lo stile evidentemente si rifà allo stile degli outsider, allo stile dell'arte folk. Comunque lo trovate sui vari volumi che vi ho detto. Vorrei farvi vedere qualcosa per capire anche l'originalità dell'immaginario. Il punto di vista, così dall'alto, il soggetto, questo non è un quadro facile e non è un quadro che puoi risolvere immediatamente, devi pensarci. Eppure è un bellissimo quadro. Andiamo su qualcosa di un po' più a sbratto. Questa è una giovane pittrice tedesca. Francesca Holstein fa grandissimi dipinti di questo tipo. Sembrerebbe a tutta prima pattern painting. In realtà, visti da vicino, hanno anche una consistenza materica e hanno una buona capacità imitativa. Ecco, qua si vede la proporzione e la dimensione di un lavoro del genere. Cioè, non hanno assolutamente paura. Non sono educati. Cioè, non so come dire. Non si pongono il problema del capire quello che stanno facendo. Un'altra, svedese. Un'altra Un'altra C'è sempre lo stesso modo. Le pitture sono diverse, ma c'è sempre uno sguardo che è originale. Questa è quasi una serie di quadri nel quadro. L'ultimo che vi faccio vedere è un'altra americana. Che fa un lavoro un po' più affine all'illustrazione, anche se uno dei suoi lavori è stato in copertina di flash art. È un'americana, anche lei appartiene a quella generazione di artisti che forma una sensibilità più folk, più intima. Un ritorno al disegno, un ritorno a una dimensione non spettacolare del quadro. Che è la conseguenza del trauma collettivo vissuto dopo l'attentato alle Due Torri. Questo vi dà anche la misura di come gli eventi sociali entrano prepotentemente nell'arte, ma non in una maniera banale. Lei non ha bisogno di rappresentare l'attentato alle Due Torri. Il suo lavoro è già una conseguenza di un trauma e di una vicenda che ha toccato tutti. Tornare a una rappresentazione intima da una dimensione di spettacolarità, quale può essere quella di Jeff Koons o di Damian Yirst, persino di Murakami, ad una invece molto più personale, molto più meditata, è già una risposta a un evento sociale. Quando io dico dovete agganciarvi al vostro tempo, implico questo. Non dovete essere dei cronisti che banalmente portano all'interno della fotografia o del video o del dipinto l'evento. Questo è un modo veramente elementare di procedere. Ma bisogna comunque fare in modo che gli eventi o che le cose che viviamo entrino nella nostra pittura in una qualche maniera, anche come risposta emotiva, come risposta a un clima generale. Cioè, tale che, osservando i lavori di qualcuno, si possa dire beh, questo è un artista che sicuramente ha vissuto quel periodo lì. E non è un artista dell'Ottocento. Lei lavora in particolare poi sulla tematica della condizione femminile. La donna è sempre rappresentata e sempre collegata ai mestieri tipici a cui erano relegate le donne nell'Ottocento. Quindi il lavoro di cucito, i lavori tipicamente femminili, ma introdotti in una dimensione fabulistica, metaforica, in cui si avverte il peso e la fatica che le donne hanno dovuto sopportare nel corso degli anni, fino alla loro emancipazione. Queste donne che tirano con la treccia un'intera casa. No, è chiaramente qualcosa di surreale. Vediamo se trovo quella che è stata la copertina di Flash Art Italia. Dovrebbe esserci. Vedi qua le donne stanno cucendo le panice di alcune tigri. No, non si vede assolutamente niente, ragazzi. Va bene, io direi di uscire dall'incumo digitale, perché vedere le immagini così, spero solo che vi faccia venire voglia di vedere i libri che vi ho consigliato. Mi riaccendete la luce qua? No, va bene, ma è sempre una presenza confortante. Non so se sono riuscito nel breve tempo a darvi un'idea, più o meno, anche se nel limitato ambito della pittura, che è il mio specifico. Ovviamente potrei fare lo stesso discorso sulla fotografia. Ci sono tanti fotografi bravi, che non vengono guardati dagli artisti italiani come dovrebbero essere guardati. Insomma, penso a Gregory Crewson, a Larry Clark, ce ne sono tantissimi, insomma, molto bravi. Molti sono californiani, sono molto bravi, vengono dalla Urban Art, hanno documentato la scena dello skate. Insomma, ce ne sono diversi. Il fatto è che finché non ho iniziato ad abbeverarvi a delle fonti stimolanti, tutto quello che vedete qui e solo qui, vi può essere di scarso aiuto, cioè dovete acquisire una dimensione di immaginazione più globale. Poi potete documentare il vostro territorio, la vostra situazione, la vostra condizione, a patto di capire che l'apertura mentale deve essere coltivata, deve essere cercata. Questi sono artisti che si sono mossi, hanno studiato, sono colti, è gente colta che sa di cosa parla quando parla di arte. Le loro interviste lo rivelano. Se intervistati voi producete un discorso che è simile a un balbettio, non potete pretendere di ottenere lo stesso successo. Quindi bisogna studiare, ragazzi. Questa è una condizione essenziale. Ok, facciamo che riprendiamo... Che ore sono? Riprendiamo con la lettura dei portfogli. Mi è venuto in mente come è nata la cosiddetta Scuola di Clugi. È una scuola di artisti rumeni, non è una scuola vera e propria. Si chiama Scuola di Clugi perché molti hanno studiato a Clugi o vengono da Clugi. Clugi è la seconda città più importante della Romania. Questo gruppo di pittori, diciamo capitanato da Adria Angheny, che oggi è diventato un artista abbastanza in vista nel panorama pittorico internazionale, credo alla fine degli anni 90 sono partiti da Clugi alcuni di questi pittori. I nomi sono Serban Savu, Radu Comsa, Adria Angheny, Victor Mann e vari altri. Sono partiti da Clugi e hanno fatto ognuno un'esperienza in Europa diversa. Cioè sono andati a cercare fortuna. Dopo qualche tempo sono tutti ritornati con le pive nel sacco in Romania. Cioè non avevano combinato niente. Si sono radunati in un'ex fabbrica della birra e anche con l'aiuto di facoltosi sostenitori hanno creato una cosa che si chiamava Plan B, una galleria, è diventata poi una galleria. Plan B era il loro piano B. Cioè non è andata bene la prima? Bene, creiamo il piano B. Plan B è stata prima una galleria a Clugi, poi si è trasferita a Berlino. Oggi è una delle gallerie che partecipa a Frizz Art Fair, ad Armory Show. Il gruppo degli artisti rumeni che ho avuto la fortuna di vedere personalmente perché io sono stato invitato da Politi a curare una sezione della parte italiana della Biennale di Praga, c'era anche la sezione rumena e erano presenti molti di questi artisti. L'anno era il 2007, mi sembra. Io ero presente con la mia proposta che era Italia New Brow, da cui poi sarebbe nato il libro edito da Politi Editore, e loro erano presenti appunto in questa sezione. Hanno avuto un enorme successo. Sono artisti caratterizzati da una pittura eminentemente figurativa con una dominanza di toni grigi. ovviamente dovete immaginare che cosa vuol dire per un artista rumeno uscire da un paese devastato dal comunismo e sui detriti di quella cultura provare a raccontare che cosa era diventata oggi la Romania nel periodo post-comunista, quindi dopo una dittatura feroce come è stata quella di Ceausescu. Quindi è ovvio che il loro racconto ha dei toni non propagandistici, ma comunque ha dei toni cromatici che virano verso il grigio. Una volta parlavo con un'artista rumena che purtroppo è morta, purtroppo suicida, e ho chiesto a lei come mai tutti questi artisti sono tutti grigi? e lei mi ha risposto ma tu hai presente che cos'è vivere in Romania? Cioè questo è stare nel presente, testimoniare il proprio presente attraverso una propria visione, che non è una visione da telegiornale, è una visione reale, è la visione di un singolo che però corrisponde a uno stato e a un clima generale. E anche loro si riunivano in questa fabbrica, ex fabbrica della birra, cioè si può fare, loro sono riusciti, di sicuro l'economia rumena non è migliore della nostra, però sono stati intelligenti e si sono mossi, si sono mossi. Ok? Adesso vi leggo una cosa per allentare un po' l'attenzione, si chiama Manifesto incompleto per la crescita. È uno dei soliti elenchi che a me piace, un po' più lungo, l'ha scritto Bruce Mau che è un architetto e designer e riguarda appunto la crescita. La crescita che io vi ho detto è quella cosa che avviene al di fuori della zona di comfort, fuori dal binario delle vostre abitudini. Lui dice, numero uno, lasciate che gli eventi vi cambino, dovete avere voglia di crescere. la crescita è differente da qualcosa che vi accade. Voi producete la crescita, voi vivete la crescita, il prerequisito della crescita è l'apertura per fare esperienza degli avvenimenti e la volontà di venire modificati da essi. Due, scordate ciò che è buono. Il buono è una quantità nota. Il buono è ciò con cui siamo in accordo. La crescita non coincide necessariamente con il buono. La crescita è un'esplorazione di oscuri recessi che possono oppure no essere utili alla nostra ricerca. Finché vi attenete al buono non sperimenterete mai una crescita reale. Tre, il processo è più importante del risultato. Se è il risultato a guidare il processo allora arriveremo sempre dove già eravamo. Se il processo guida il risultato potremmo non sapere dove stiamo andando ma sapremo che vogliamo arrivarci noi. Che io traduco in questo modo. Se lasciamo uno spazio erratico nel nostro modo di procedere rischiamo di scoprire qualcosa. Se invece facciamo il nostro bel progetto per realizzare una cosa e realizzare quella cosa diventa soltanto un momento esecutivo per far coincidere il manufatto con l'idea non scopriamo nulla. Quattro, amate i vostri esperimenti come amereste un figlio brutto. La gioia è il motore della crescita. Sfruttate la libertà di organizzare il vostro lavoro come una serie di esperimenti meravigliosi. Procedimenti, ricerche, tentativi, errori. prendetevi la comoda e permettetevi il gusto di gioire per ogni sbaglio quotidiano. Cinque, andate in profondità. Più andate in profondità e più avrete la possibilità di scoprire qualcosa che vale. Sei, concentratevi su ciò che va storto. La risposta errata è una risposta giusta per una domanda differente. collezionate le risposte errate come parte del processo. Ponetevi domande differenti. Sette, studiate. Lo studio è un luogo di studio. Approfittate della necessità della produzione come scusa per studiare. Ognuno ne trarrà beneficio. Otto, lasciatevi portare dalla corrente. Permettetevi di divagare senza scopo. Esplorate le adiacenze, sospendete il giudizio o sticipate la critica. Nove, poi ve lo do eh, non vi preoccupate. Cominciate da qualunque luogo. John Cage dice che non conoscere da dove partire è una delle forme più comuni di paralisi. Il suo suggerimento è cominciate da dove volete. Dieci, ognuno è leader. La crescita accade qualora accadesse bisogna permetterle di accadere. Imparate a seguire quando serve e lasciate che ognuno guidi. Ovviamente lui fa riferimento a quello che è l'ambito del design in cui spesso si lavora anche in team. Però il team è qualcosa che riguarda tutti. Cioè voi siete un artista in singolo però vi avvalete anche di collaboratori, sono anche quelli che vi vendono i materiali, siate curiosi, chiedete, avvaletevi dell'aiuto delle persone. Undici raccogliere idee, rielaborate le applicazioni, le idee hanno bisogno di un dinamico, fluido, generoso ambiente per sostenere la vita. Le applicazioni d'altro canto beneficiano del rigore critico, producete un elevato tasso di idee applicate, cioè fate perché se rimane tutto nella vostra mente non succede nulla. Dodici, muovetevi, il mercato e le sue operazioni hanno la tendenza di ribadire il successo, resistete a ciò, lasciate che gli insuccessi e la migrazione siano parte della vostra pratica. tredici, rallentate, desincronizzatevi dal tempo standard e sorprendetevi delle opportunità che si presentano da sole. Quattordici, non siate alla moda, la moda è una paura reazionaria con l'abito scuro, liberatevi di questo tipo di limiti. Quindici, fate domande stupide, la crescita è alimentata dal desiderio e dall'innocenza, valutate la risposta non la domanda, immaginate di imparare nel corso della vostra vita con lo stesso ritmo di un bambino. Non ci sono domande stupide, ci sono delle risposte stupide. Sedici, collaborate, lo spazio delle persone che lavorano insieme è pieno di conflitti, frizioni, dissensi, allegria, gioia e un immenso potenziale creativo. come hanno fatto quelli della scuola di Clugge. Diciassette, uno spazio lasciato vuoto, lasciato intenzionalmente vuoto perché lasciare dello spazio per le idee che non avete ancora avuto e per le idee degli altri, ve l'ho detto, cioè non dobbiamo sempre riempire tutto e non possiamo avere tutte le idee noi. Diciotto, restate svegli fino a tardi, accadono strane cose quando vi siete spinti troppo in là, restando svegli per parecchio tempo, lavorando sodo, mentre siete separati dal resto del mondo. Diciannove, lavorate sulle metafore. Ogni oggetto ha la capacità di rappresentare qualche altro oggetto rispetto a ciò che sembra. Lavorate su quella rappresentazione. Venti, valutate con attenzione i rischi. Il tempo è genetico, cioè l'oggi è figlio di ieri e padre del domani. il lavoro che producete oggi creerà il vostro futuro. Quello che succede dopo è creato adesso. Per forre un figlio ci vogliono nove mesi. Per vedere un seme crescere ci vuole tempo. Quindi non pretendete di fare oggi e di avere immediatamente il risultato oggi. C'è un tempo che deve trascorrere perché le cose mature. Ma se non vi muovete subito quel tempo diventa sempre più lungo. 21. Ripetetevi. Se qualcosa vi piace fatela ancora. Se non vi piace non fatela più. 22. Costruitevi i vostri strumenti personali. Mescolate i vostri strumenti per creare oggetti unici. Soltanto strumenti semplici che sono vostri possono aprire nuove strade per l'esplorazione. ricordate gli strumenti amplificano le vostre capacità quindi anche un piccolo strumento può fare una grande differenza. 23. State sulle spalle di qualcuno. Potete viaggiare molto più velocemente se trasportati sui risultati di chi vi ha preceduti e la vista è molto migliore. 24. Evitate il software. Il problema del software è che tutti lo possiedono. 25. Non fate pulizia sulla vostra scrivania. Al mattino potreste trovare qualcosa che non vedevate stasera. 26. Non partecipate ai concorsi. Non sono d'accordo su questo. Non fatelo e basta. Non è buono. Lui lo dice probabilmente in riferimento alla sua specifica attività. Invece per quanto riguarda l'arte partecipate ai concorsi perché sono una buona occasione oltre che per vincere qualche soldino per farsi conoscere. 27. Leggete soltanto le pagine di sinistra. Marshall McLuhan faceva così. Diminuendo il carico di informazione lasciamo spazio per ciò che egli chiamava il nostro fantasticare. 28. Create nuove parole. Espandete il lessico. Le nuove condizioni richiedono un nuovo modo di pensare. Il pensiero richiede nuove forme di espressione. L'espressione genera nuove condizioni. Cioè il motivo per cui gli stili cambiano è che sono cambiate le condizioni e abbiamo bisogno di un nuovo lessico per dire le cose. Quindi espandere sia il proprio linguaggio cioè il linguaggio con cui noi parliamo sia il proprio linguaggio artistico è una necessità. 29. Pensate con la vostra testa dimenticate la tecnologia la creatività non è periferico dipendente. Un lavoro non è mai buono per lo strumento con cui viene fatto. Ci sono artisti che commettono questo enorme errore. Pensano che la tecnica o che la novità di una tecnica sia di per sé sufficiente a dare valore al lavoro. Non è così. Possiamo utilizzare anche tecniche desuete il lavoro dipenderà solo dalla maturità del linguaggio non è mai lo strumento è sempre il linguaggio. 30. Organizzazione uguale libertà. Il vero innovamento nel design e in altri campi compare in un contesto specifico. Questo contesto coincide normalmente con una forma di scoperta organizzata in cooperazione. Esempio Frank Gehry il famoso architetto era in grado di realizzare il museo di Bilbao perché il suo studio poteva supportarne il budget. Il mito di una divisione tra creativi e uomini in giacca e cravatta è ciò che Leonard Cohen cantante chiama un artificio affascinante del passato. Cioè l'artista non si occupa solo della propria arte. La divisione tra il creativo e l'uomo in giacca e cravatta significa la divisione tra chi fa l'arte e chi la gestisce e promuove. Non c'è più questa divisione. L'artista deve occuparsi di tutto. L'artista è anche il promotore di se stesso. L'artista è anche quello che sa spiegare il proprio lavoro. Damian Irste è l'esempio vivente di un artista che si è fatto imprenditore di se stesso. Jeff Koons anche. Murakami anche. 31 Non fatevi prestare soldi suggerisce ancora una volta Frank Gehry tenendo sotto controllo le finanze manteniamo il controllo dell'aspetto creativo. Non si tratta di un compito che richieda conoscenze spiccate eppure sorprende quanto sia difficile mantenere questa disciplina e sorprende quanti siano i fallimenti a tal proposito. Lavorate con quello che avete. 32 Ascoltate con attenzione ognuno dei collaboratori che entra nella vostra orbita porta con sé il proprio mondo che è molto più complesso di quanto chiunque possa sperare di immaginare. Ascoltando in particolari i dettagli e le specificità dei loro bisogni desideri e ambizioni incorporiamo il loro mondo nel nostro né l'una né l'altra parte rimarranno le stesse. 33 Esplorate il mondo la gamma di opportunità che il mondo vi offre è più grande del vostro schermo televisivo o di internet o ancora più grande di qualunque ambiente di simulazione grafica. 34 Fate errori con rapidità Questa non è una mia idea l'ho presa da qualcun altro credo che appartenga a Andy Grover 35 Imitate un altro che lo dice ma guarda un po' Non abbiate paura di ciò provate ad avvicinarvi il più possibile potreste non imboccare la strada giusta e la separazione con i risultati potrebbe essere seriamente visibile eppure dobbiamo osservare la versione che Richard Hamilton ha realizzato del calice di vetro di Marcel Duchamp per accorgerci di quanto l'imitazione come tecnica sia ricca discreditata e sottoutilizzata tanto per quanto noi vogliamo imitare qualcosa non sarà mai una copia perfetta c'è una limitazione umana a replicare ed è già una garanzia che l'imitazione non sarà necessariamente plagio 36 scat quando vi dimenticate le parole fate ciò che fece Ella Fitzgerald semplicemente dite qualcos'altro ma non parole lo scat è un tipo di canto jazz che sostituisce alle parole le onomatopee 37 rompete allungate contorcete frantumate rompete piegate 38 esplorate l'altro lato c'è data una grande libertà quando evitiamo di risolvere le cose con gli strumenti tecnologici non riusciamo a sbrogliare la matassa perché la stiamo calpestando provate a utilizzare tecnologie obsolete e rese più economiche dai tempi ma ancora ricche del loro potenziale 39 pausa caffè giri in macchina sale d'attesa la crescita reale spesso avviene negli interstizi fuori dagli spazi in cui cerchiamo di trovarla quelli che il dottor Seuss che è un famoso autore di fiabe per bambini chiama i luoghi dell'attesa Hans-Hurrich Orbrich una volta organizzò una conferenza dedicata alla scienza e all'arte con tutte le infrastrutture della conferenza la festa le discussioni i pranzi gli arrivi in aeroporto ma senza dare luogo alla conferenza apparentemente il fenomeno fu un enorme successo e diede il via a collaborazioni attive ancora oggi 40 evitate le specializzazioni saltate la staccionata i confini disciplinari e i regimi di regolamentazione sono tentativi di tenere sotto controllo l'aspetto selvaggio di una vita creativa essi sono spesso comprensivi sforzi per mettere ordine a ciò che è disordinato e complesso in un processo di evoluzione il nostro mestiere è quello di saltare le staccionate ed evitare ogni specializzazione 41 ridete la gente che visita lo studio il nostro studio nota spesso che ridiamo molto da quando mi sono accorto di questa cosa l'ho adottata come barometro della tranquillità con cui stiamo esprimendo noi stessi 42 ricordate la crescita è possibile soltanto come prodotto di una storia ecco perché bisogna studiarla senza la memoria l'innovazione è mera novità la storia dà una direzione alla crescita tuttavia la memoria non è sempre perfetta ogni memoria è un'immagine degradata di un momento o di un avvenimento precedente ciò che ci rende consapevoli della sua qualità è il passato non il presente ciò significa che ogni memoria che noi abbiamo ricordate l'esempio della diversità tra il neoclassico e il classico ogni memoria è nuova una costruzione parziale che differisce a seconda della sorgente e in quanto tale è essa stessa un potenziale elemento della crescita 43 ed ultimo date potere alle persone il gioco funziona soltanto quando le persone sentono che hanno il controllo delle loro vite non possiamo essere liberi professionisti se non siamo prima liberi ok Paolo Ferrante distribuite aspetta un attimo che intanto consegno come vuoi allora io sono Paolo Ferrante questo qua è il portfolio degli ultimi cinque anni e lo devo aggiustare perché ho scritto solo 2014 2014 vabbè allora io ho messo all'inizio l'abbio le mostre personali e le collettive via i mesi il titolo in corsivo come vi ho detto l'anno in grassetto come vi ho spiegato ieri i mesi non interessa nessuno se avete fatto una cosa in giugno in maggio ok ok fai avanti fai la spiega vabbè ho integrato anche lo statement tutto qua nella bio allora non è bio è statement ok questo qua è la più recente mostra prima ci dici su che cosa lavori non ci dici che cosa c'è nel porto dici il mio lavoro è così così cosa che cosa come perché e poi ci fai vedere o mentre parli ci fai vedere che cosa fai a me interessa catalogare testimonianze di della vita delle persone ma anche del diciamo della collettività intesa come inconscio collettivo oppure come lo chiamo io immaginario sotterraneo di un territorio attraverso questa ricerca creo diciamo dei lavori che che altero per per aggiungerci qualcosa questo diciamo a grandi linee mi sono spostato dalla pittura alla più recente installazione quindi questo qua è più o meno a grandi linee il percorso questa qua è l'ultima mostra che ho fatto questi sono dei lavori in resina epossidica all'interno dei quali ho imbrigliato degli elementi in questo caso sono statuine di creta o di carta testa oppure anche elementi naturali quindi li ho fatti assomigliare a delle teche portatili ovviamente non è una cosa nuova l'ho presa io in prestito da un designer americano che si chiama oddio non mi ricordo diciamo che faceva queste teche portatili ecco e io diciamo imbrigliato questi oggetti che ricordano la vita delle persone per esempio tessuti oppure appunto statuine che li trovi anche in casa delle persone anche anziane oppure anche elementi naturali come per esempio ho trovato questo uccello per esempio con marciapiede si stava decomponendo ho deciso di ridargli vita in qualche maniera io ho fatto questo intervento con la foglia oro insomma la mia idea diciamo è di creare una testimonianza questo è a grandi linee questo per quanto riguarda gli ultimi lavori quello precedente a questo era più sul mistico era più una ricerca pittorica ho usato una tecnica mista di acrilici e di pennarelli a base acrilica comunque abbastanza somiglianti attraverso i quali un momento ho ho sfruttato questa tecnica per sperimentare su un foglio trasparente in PVC quelli molto sottili e flessibili e ci ho applicato uno sfondo scuro poi questo invece è completamente trasparente questo è un doppio vetro qua è molto rimpicciolito comunque penso che si capisca qua pure stiamo parlando di una tecnica mista acrilico e pennarello e penne grafiche precedentemente a questo mi ero concentrato sui layout dei dizionari degli atlanti di medicina e ci ho aggiunto qualcosa di mio come decorazioni come interventi pittorici in certi casi ho anche sperimentato sempre sfruttando PVC trasparenti questo possibile dialogo fra due fogli ma anche tre sovrapposti che hanno creato dei lavori completamente nuovi questo in particolare lo presentai al premio combat fu segnalato nel 2012 poi sì stiamo comunque parlando ancora di layout questa è la mia ricerca precedente ancora stiamo parlando del 2012 quando ho lavorato la tematica del corpo ecco il corpo visto dal punto di vista più più mistico più interiore facci vedere delle immagini ancora sì arriva fin qua diciamo ho selezionato solo i migliori questo è il primo diciamo della serie di questa tematica che poi ho chiamato il corpo necessario perché insomma c'era tutto un discorso legato alla necessità di essere fatti in un certo modo e di essere un po' di foto però ci vogliono sì più di foto forse nel senso che sì per capire una serie dobbiamo vedere un certo quantitativo di immagini almeno 5-6 ecco se io le ho selezionate proprio accuratamente quindi ne sono uscite pochissime bisogna mettere qualcosina di più ovviamente nel portfoglio cartaceo questo affiancamento di immagini non va bene non ve l'ho detto ma nel portfoglio la pagina di sinistra è bianca l'immagine sta sulla pagina di destra perché altrimenti se io vedo due immagini non so quale guardare possiamo utilizzare la pagina di sinistra bianca se non vogliamo ulteriormente avere un disturbo visivo per portarci la didascalia della pagina di destra l'unico inconveniente è che quando dobbiamo sostituire quell'immagine ne dobbiamo togliere due di pagine ovviamente perché l'altra la didascalia dell'opera sta sul retro dell'opera precedente ok ovviamente questo portfoglio è incompleto perché non ho diciamo savasandir aggiunto la didascalia vabbè questa è l'ultima invece l'ultima anzi la prima che risale al 2012 l'ho chiamata Red Rain ed era uno studio su immagini mediatiche che ho preso proprio dalla televisione di diciamo vittime vittime anche di percosse da parte oppure in certi casi immagini fasulle prese da film dal cinema ok va bene mi accendi un attimo la luce allora feedback ma parlo arabo io oh hai parlato di immaginario collettivo all'inizio no? soprattutto riferendoti alle ultime cose il lavoro su memorabilia cioè quelle teche piccoline miniatura a me sembra cioè diciamo suscita direttamente più un riferimento a qualcosa a un'esperienza molto intima e personale di teche che la tiri fuori e vedo poco i riferimenti con un immaginario che posso immaginare definire collettivo mentre invece nei primi lavori soprattutto quelli sul corpo è lì che vedo più questa relazione in maniera lampante cioè è più evidente la tua esigenza di lavorare su delle immagini note quindi prendi dal cinema o questo cioè questo attingere a cose che è chiaro che sono parte dell'immaginario collettivo viene più immediato quel collegamento è giusto questo che viene detto anche perché memorabilia già implica una visione molto più personale più intima il riferimento all'immaginario collettivo non c'è c'è piuttosto il riferimento a un a un mondo di suppelletti di private di gozzaniana memoria direi per fiera in ballo un'espressione da manuale della letteratura del liceo gozzano era quel poeta decadente che scrisse le care vecchie cose di cattivo gusto no cioè quel quella quei nennoni un po' da nonne no che si trovano nelle case degli anziani non ha molto che vedete con l'immaginario collettivo che invece ha sempre un'accezione molto più di cultura urbana di cultura mediatica di qualcosa che condividiamo tutti attraverso gli strumenti tecnologici o anche attraverso i ricordi personale immaginario mediatico e che ne so i cartoni animati le riviste i giornali certe immagini dello sport insomma in quel senso si intende immaginario mediatico tolta questa diciamo definizione questa puntualizzazione giusta che cosa possiamo dire sia sull'esposizione che sul lavoro dai però sveglia eh ragazzi sforzatevi cioè non è possibile ha parlato 20 minuti non vi è venuto in mente niente mentre parlava c'eravate spettatori passivi dai ma perché vi dovete far maltrattare dai forza avete paura di offenderlo non si offende gli fate del bene a me si è sembrato un po' insicuro mentre esponevi però cioè vista la situazione mi sembra anche normale comunque di fronte tante persone sconosciute penso che se fossi stato tu per tu magari saresti stato più sicuro cioè mi è venuto in mente questo poi per il resto a me sembrava che funzionasse dal mio punto di vista in esperto sentite al al California Art Institute che è una prestigiosa scuola californiana lo racconta la Thornton nel libro viaggio nel mondo dell'arte in sette giorni c'è un professore che obbliga gli studenti a parlare davanti alla classe per spiegare il proprio lavoro e sviluppare questo senso di criticality senso critico e poi lo sottopone a un fuoco di critiche massacranti e impietose da parte degli studenti cioè sviluppa una incentiva all'aggressività degli studenti sul lavoro che viene esposto è un metodo spartano per fortificare l'artista e qua voi mi sembrate più che spartani veramente degli hobbit cazzo cioè svegliatevi ragazzi un po' di senso critico non state offendendo l'onore personale della persona ci sono cose da dire potete anche dire le cose positive io non intendo solo intendo un feedback critico questo funziona questo non funziona perché per come io credo che le idee di base siano buone entrambe ho letto due filoni due lavori in questa presentazione mi sembrano buone forse come dicevi prima un po' di documentazione in più più immagini forse anche una maggior produzione magari producendo di più riesci ad arrivare a dei risultati che non ti aspettavi nemmeno all'inizio o durante il tuo percorso questa qui di memorabilia mi piace molto mi piace perché non lo so mi dà un po' sai di quei pomeriggi dopo la scuola che perdi tempo a rovistare tra la roba della nonna a casa dell'azienda dove ti hanno lasciato perché magari i due lavoravano ora non lo so tu come hai vissuto la tua infanzia però decisamente potrebbe avere uno sviluppo anche temporale no? questo mi ricorda molto l'infanzia queste cose piccole questi particolari quasi un inner vision di se stessi attraverso oggetti che non sono nostri perché se vuoi questa roba è rubacchiata no? potresti continuare secondo me a sviluppare questa cosa anche cambiando le dimensioni se quella è un'ala di farfalla saranno tre centimetri quattro di diametro e ce ne vorrebbero almeno una quarantina di quelle secondo me una accanto all'altra dare sequenzialità e forza a quello che hai fatto presentare una monetina tu immagina una collezione una monetina singola la vedi quando? quando è d'oro quando invece vedi collezioni di monete usate vecchie ce ne stanno 30, 40 tutte insieme sullo stesso foglio porta monetine ecco io me la immagino così questa ricerca prende valore laddove tu gli dai valore quindi io ci ho perso tempo ho perso tempo a cercarle le ho trovate le ho pulite le ho messo l'oro sul becco però l'ho fatto tante volte in maniera sistematica deve essere quasi c'era una mia amica in Slovenia che riempiva le pagine scrivendo Delam che in sloveno vuol dire lavoro nel lavoro nel senso che la faccia di Jack Nicholson no? il mattino l'oro in bocca cioè no e sono tutte cose giuste quelle che stai dicendo sono buoni suggerimenti consiglio sempre di non sconfinare nel senso nell'accezione io farei così però hai dato buoni suggerimenti che cosa si nota però subito qua dal lavoro che c'è una scarsa produzione perché se sei riuscito a selezionare solo così poche opere vuol dire che anche la produzione non è io ve l'ho detto bisogna lavorare tutti i giorni e poi c'è un altro fatto che io ho notato poi ti lascio la parola Cristiano volevi dire qualcosa c'è una disattenzione o forse una maggiore attenzione sui contenuti rispetto a sulle cose che fai nel senso che soprattutto nell'aspetto grafico pittorico lì sei debole più che negli oggettini allora gli oggettini funzionano meglio hanno più appeal però lì bisogna vedere la tua durata temporale sugli oggettini perché poi diventa anche una rottura di palle diciamo la verità nella parte grafica tu hai dato molto peso al al senso cioè diciamo con un approccio concettuale che però a me personalmente non mi incanta nel senso che io voglio vedere il lavoro vi ho fatto vedere dei pittori vi ho fatto vedere la qualità esecutiva ecco anche se ti muovi in un ambito quale quello concettuale io richiedo la stessa qualità del manufatto che sia esso un disegno un collage o anche solo un'idea scritta ci vuole una grande qualità io da lì evinco che la mano non disegna non dipinge abbastanza non dipinge abbastanza questa è la debolezza che vedo subito non credo che ti possano mancare idee ma stai attento perché quel discorso che fai nella grafica chiamo grafica per dire disegno insomma quella cosa dei vocabolari piuttosto che quella delle anatomie o quella delle persone ricoperte da questa pioggia di sangue tutta sta novità non è cioè dobbiamo stare attenti è inevitabile incappare in cose che sono state già dette il déjà vu il déjà sentù va bene però cerchiamo anche di coltivare ossessioni personali ecco il segreto è trovare dentro di sé una particolarità e coltivarla è tua poi stilisticamente rubacchia dove vuoi ma l'ossessione deve essere tua particolare oppure un modo particolare di vedere le cose che è solo tuo cioè è una ricerca di sé fare il lavoro non è soltanto una ricerca formale ok se a difesa anche anche ovviamente no lui mi chiedeva se il senso è da trovarsi anche dentro il segno inteso come stile come anche anche ma ovviamente noi troviamo le cose solo se le cerchiamo molto e come diceva lui più produci più errori fai e più lo stile si definisce cioè se io faccio una cosa una volta non verrà bene come quando l'ho fatta per la centesima volta la centesima volta ho acquisito una manualità una capacità di fare anche nel pensiero vale così la capacità di pensare si sviluppa quanto più noi ci cimentiamo diciamo nella cosa va bene grazie si aspetta e volevo dire una cosa che però dipende dal fatto che io ho visto la mostra in cui erano esposti questi questo lavoro memorabilia memorabilia e non so se una tua scelta l'aver adesso mostrato in coppie per ridurre diciamo la presentazione essere più veloce però in quel caso durante la mostra io credo che ci fosse una maggiore complessità della presentazione ecco erano dei gruppi di otto anche di più erano tre gruppi in particolare e forse la cosa che mi incuriosiva e che mi faceva scattare un interesse in quella presentazione era la possibilità di immaginarmi da me insomma collegamenti fra questi vari oggetti che vi espostano cercare di costruire una storia mia o qualcosa in quel senso mi poteva attivare come dire il mio immaginario non so come dire no quella invece sposte singolarmente automaticamente cambia proprio sì io suggerisco che ci sia una visione di insieme e poi magari il dettaglio di qualcuno degli oggetti l'esposizione a grappolo a gruppi può funzionare però io accoglierei il suggerimento invece di presentarli a gruppi molto lineari a file cioè di dare un'idea sì perché comunque mi sembra che abbia a che fare con la catalogazione ripeto l'idea non è nuovissima pensiamo alla farmacia alle varie teche con le medicine di Damian Nirst o anche ai suoi scheletri di uccelli di animali c'è questa idea così da tassidermia o da archivio delle da wunderkammer se vogliamo che è abbastanza abusata diciamo la verità però ognuno ha diritto a coltivare le proprie ossessioni prossimo leone allora facciamo così mettiamo sia la chiavetta prendi la tua chiavetta qua ok allora lei vediamo voi vedrete le cose sul sito però chi si vuole avvicinare senza dar fastidio alla camera è meglio che veda i lavori nel portfoglio fisico quindi abbiamo una doppia esposizione la vedete solo quello che c'è sul sito pronto si sente adesso ti do io il via spegni sì ok allora io sono Simona Pistorello diciamo che ho fatto un percorso che non c'entra niente con l'arte finora perché sono laureata in lingua come forse ho già detto ed è come se da un anno e mezzo a questa parte avessi iniziato un'altra vita nelle mie rappresentazioni c'è anche un po' questo senso di di cambiamento ma anche di voler bloccare il tempo in momenti che siano abbastanza legati a un immaginario quasi infantile a video si vede l'ultimissimo mio lavoro che è un acquerello anche se generalmente prediligo invece l'acrilico però anche l'olio e devo dire che in un certo senso la pittura è venuta quasi dopo a quello che considero più artigianato nel senso che io ho iniziato dipingendo dei gioielli di legno poi queste rappresentazioni acquisivano delle caratteristiche sempre più definite tanto da sentire poi la necessità di tradurle su dei mezzi anche che mi offrissero più spazio e più possibilità come dicevo c'è questa visione di tematiche non infantili legate a degli eventi che caratterizzano la vita da adulti però quello che cercavo di dire ieri è che secondo me l'arte non è solamente denuncia e non è solamente provocazione cioè io la vedo anche come fermare un momento attraverso un occhio che possa non essere condizionato poi dalla velocità che caratterizza la vita di tutti i giorni ad esempio o dai problemi quindi sì un'arte che sia di conforto in questo in realtà io non credo di fornire delle risposte nei miei quadri credo di porre molte domande quello che vorrei fare è fare in modo che questi quesiti siano filtrati con un occhio più sereno forse più pacato rispetto alla vita frenetica di tutti i giorni fai girare qualche immagine lì se voi vi avvicinate potete vedere il portfoglio accendiamo anche questa io faccio anche delle tavolette molto piccole tanto che ho avuto diversi problemi perché all'inizio partendo proprio dal mezzo molto piccolo del gioiello avevo difficoltà a utilizzare dei supporti grandi cosa che mi è stata rimproverata molto e quindi lavoravo su dimensioni veramente ridotte poi piano piano sto cercando di forzare un po' questo mio limite sono arrivata il mio massimo è stata questa questa stella di legno di un metro e mezzo le dimensioni non si mettono mai in metri sempre e solo in centimetro secondo me il quadro che mi rappresenta di più è questo è Mangime che si può vedere anche qui che è quello a cui sono più legata ed è anche quello che è stato capito di meno anzi dal momento che io giro tanto anche per la linea di gioielli nei mercatini piuttosto che eventi anche abbastanza popolari mi rendo conto ho modo però di parlare tantissimo con le persone e quasi e mi piace anche nonostante appunto sia una fascia abbastanza popolare mi piace anche capire un po' il feedback e tutti di questo quadro mi hanno detto che non avrei dovuto scrivere Mangime sotto perché è una nota stridente però forse questo è anche il motivo per cui è quello che mi piace di più tutti togliendo la parola ci vedono qualcosa di profondamente delicato pacato in realtà secondo me è un quadro disperato e io con quella parola sotto volevo volevo comunicare questo se però ti dicono il contrario cioè se questo messaggio che tu volevi dare non arriva qualcosa nel messaggio non va al di là di questo e prima di dare parola a loro voglio dirti una cosa tu hai detto che non hai studiato arte hai studiato? io ho studiato lingue mi sono iscritta all'accademia un anno fa un anno fa ok quello che fa abbastanza impressione per me è che tu abbia già un'opinione sull'arte ancora prima di conoscerla a fondo cioè ti sei fatta l'idea intanto nella tua proprio discorso iniziale si evince il primo pregiudizio cioè l'arte contemporanea è solamente un'arte di protetta di rottura un'arte che ha degli elementi di contrasto non è vero non è vero prima di formularsi un'opinione contraria cerchiamo di conoscere l'arte in tutta la sua estensione questo è molto importante perché rischi di iniziare a pensare delle cose per giustificare il tuo lavoro o il fatto che tu propendi verso un certo tipo di gamma sentimentale emotiva e costruisci così diciamo il supporto ideologico a questa cosa però in realtà formulando dei giudizi che sono pregiudizi quindi bisogna conoscere bene dopodiché entriamo nello specifico tuo anzi entriamo nello specifico di questo lavoro chi vuole parlare? a me piace la ma non ci dici eh glielo dici dopo penso che una delle cose che funziona secondo me è il testo quindi al contrario di come hai detto tu cioè l'ho trovato interessante perché crei una relazione in più con l'immagine quindi è comunque un modo in più anche per l'altro non soltanto più che per trovare risposta per porsi domanda e poi alcuni forse mi sembrano troppo naif però è una mia impressione mi sento di dire solo una cosa nel senso che i tuoi lavori sono a carattere molto illustrativo quindi per avvalorarli secondo me potresti pensare ad affiancarli ad un testo ad una storia magari collaborare con qualcuno che scriva per dargli più respiro perché altrimenti potrebbero sembrare degli innocui disegni invece affiancati avrebbero un valore diverso chi altro? non dovete avere paura di urtare la sensibilità lei è venuta a questo corso immagino che abbia che sappia che qui si parlava di arte contemporanea quindi in realtà ciò che non riesce ancora a dire è che sa che ci sono dei limiti quindi noi dobbiamo favorire questa transazione e questo passaggio la questione è dovete imparare a essere un po' più critici e non perché in questa situazione perché non non è questione di urtare la sensibilità abbiamo parlato di arte contemporanea a proposito di questo discorso sul testo mi sembra che il testo crei una rottura possa creare questo tipo di immagine una rottura ecco perché mi sembra che si dica che il testo può essere interessante perché mi sembra che ci sia poca forza contraddittoria nell'immagine in sé c'è poco è un'immagine come probabilmente proprio perché tu sei molto legato a quest'idea distensiva dell'immagine è un'immagine poco contraddittore quindi il testo crea una rottura crea un po' di tensione che nell'immagine non c'è quindi crea un'apertura ad un orizzonte di interesse che può generare una domanda può essere fatto anche con un mezzo diverso dal testo io sono d'accordo invece con con lei con la ragazza perché per lo stile di queste immagini sono da illustrazione per bambini poi a prescindere può essere anche una storia con valori importanti però sono storie per bambini sono una marea in libreria ecco perché diceva la ragazza mettendo un testo perché siamo abituati a vedere quelle immagini affiancate a libri e non è solo così in realtà vabbè no però poi vi faccio vedere un esempio nell'immaginario è chiaro io per esempio ci sono tanti artisti c'è la Ceccoli che fa Fiabe Nicoletta Ceccoli Ceccoli e fa anche vende anche quadri con lo stesso stile fa anche dipinto è chiaro esatto c'è uno stile molto fabulistico che però trova una capacità di espressione anche nell'ambito delle fine art diciamo certo con quella caratteristica fiabesca quasi tutto il movimento pop surrealista americano esprime questo tipo di valori perché le fonti di ispirazione sono il fumetto l'illustrazione il film di serie B un certo cinema di genere la televisione insomma tante cose però diciamo che l'immaginario infantile è una costante abbastanza presente nel mondo pop surrealista la Ceccoli è una di quelle a tratti la ricordi la Ceccoli è più matura però ha trovato una sua nicchia in cui da illustratrice di fiabe cosa che ha fatto ha anche poi una serie di gallerie anche importanti in quell'ambito che trattano il suo lavoro il quale non costa neanche poco oltre al lavoro pezzi unici c'è una produzione di multipli quindi si può fare certo è che bisogna conoscere allora nel proprio ambito quali sono gli artisti che operano e come si sono mossi se si vuole ripare in quest'ambito perché quest'ambito ti dà due possibilità o entri ad alto livello nel mondo dell'illustrazione o entri nel mondo pop surrealista ma devi evolvere dal punto di vista tecnico e devi approdare alla tela e ha una capacità di strutturare il racconto molto più matura oppure sei condannata ai mercatini rionali sei condannata ad andare al mare fare le esposizioni dove chiaramente c'è un pubblico che acquista l'acquarello la cosa si genera anche un'economia questa non è la via maestra questa è la via è il puntare in basso una sensazione che ho avuto sin dall'inizio sicuramente è questa del fatto che sono dei disegni volti ad un pubblico di bambini è giusto vuole dare anche una sensazione di conforto però è interessante secondo me il discorso del testo unito all'immagine perché c'erano delle forme d'arte anticamente che lavoravano in questo senso l'arte dell'impresa la raldica l'impresistica del rinascimento lavorava sul rapporto tra parola e immagine io credo che questo poi abbia sviluppato in seguito poi la grafica ho un bellissimo libro che secondo me parla di questo è le lezioni americane di Calvino perché gioca sempre più o meno anche sulle stesse temi di Giovio che ha tracciato le linee dell'impresistica di quel tempo secondo me potrebbe essere un'opportunità invece visto che tu sei laureato è un suggerimento però io credo che la vincoli è allo stato in cui è cioè ma perché insistete così tanto sulle parole è come se diceste non puoi diventare un artista propriamente detta allora diciamo che la parola così ti chiude nella scatola illustrazioni per bambini all'interno delle illustrazioni dei bambini comunque avresti del lavoro da fare perché c'è gente ma molto più brava ok qui ci sono un sacco di elementi naif diciamo ma anche di ingenuità compositiva una certa tendenza alla semplicità che ti lascia il dubbio se questa semplicità sia cercata o sia un limite espressivo la conseguenza di un limite espressivo è sicuramente entrambi diciamo che proditoriamente tu l'agganci questa volontà di essere semplice ha una limitazione di mezzi espressivi quindi ma in verità se tu fossi e avessi la capacità di essere più brava chissà mai che riteresti di fare certe cose o certe semplicazioni come dire se io posso scalare una montagna non è che mi metto a scalare una collina io scalo una montagna ok qui siamo in un ambito piccolo ristretto devi andare a vederti i lavori dei grandi illustratori e in particolare devi vederti i lavori di quegli illustratori che sono riusciti a lavorare nel mondo dell'arte ce ne sono anche di italiani Tullio Pericoli presenti Dino Buzzati ha fatto degli ottimi lavori di disegno tanti perché ci sono anche ottimi illustratori e fumettisti che quando mettevano mano su una tela erano un disastro a cominciare persino da Andrea Patienza intendiamoci o anche che ne so Enki Bilal un altro tu vedi i lavori di fumetto sono bellissimi purtroppo vedi le tene ti metti le mani nei capelli cioè non è così automatico io ti suggerisco di procurarti tutti i volumi di illustration now della Taschen prezzo contenuto di informarti su che cos'è il pop surrealismo andare a vedere il sito di Nicoletta Ceccoli e per esempio vedere chi nell'ambito di quel lavoro lì ad esempio Mark Raiden da un immaginario di tipo illustrativo attraverso la lezione dei grandi fiamminghi è riuscito a formulare una pittura che ha ancora elementi fiabeschi e cartonistici ma è eseguita esattamente come un dipinto fiammingo dettagliatissimo e rigoroso e che quindi oggi lui guadagna milioni di dollari per cui bisogna che tu guardi questi elementi se non vuoi abbracciare il lato scuro dell'arte io la cura che ti darei omeopatica è dosi massicce di arte contemporanea dosi massicce di concettuale tutto l'opposto che tu sei dovrebbe entrare nel tuo orizzonte di vita perché tu capisca se questa è una scelta oppure no perché io non sono affatto sicuro che questo sia una scelta e quindi se è una scelta è libera e va rispettata ma se è dettata da una certa necessità cioè da un elemento orbistico che poi ha dimostrato di poter creare una piccola economia non devi affezionarti a questo genere di raggiungimenti se vedi che dipingere ti piace devi poter ambire a qualcosa di più l'arte contemporanea è un'arena feroce devi abbracciare la ferocia non perché nessuno vuole essere cattivo è chiaro che se ci dicono di scegliere tra i jedi e i sick noi scegliamo i jedi no? tutti quanti anche gli artisti più come dire apparentemente violenti o contrastanti hanno questa volontà ma sai la volontà del bene non significa il bene la volontà del bene è una volontà si può anche manifestare attraverso strade e scelte che sono piene di contrasto e di negatività d'altra parte questo dualismo va ricomposto quindi non possiamo essere solo il bene per i fanciulli dobbiamo considerare che l'arte è una testimonianza dello stato attuale anche di cose cioè non è che noi amiamo Leonardo perché ci ha raccontato dei bei tempi antichi Leonardo ci ha raccontato della sua epoca no? quindi se resti così il tuo orizzonte aspirazionale è di partecipare al festival Andersen di Pestri Levante ti auguro di non farlo c'è sempre bisogno di illustratori ti auguro nella prospettiva del critico d'arte se fossi un editore francese di illustrazioni e di fumetti direi continua così però vai avanti e migliora che troverai un lavoro nel campo editoriale e poi potrai anche fare dei soldi vendendo le tue tavole originali e producendo dei multipli che generano un'economia cioè queste sono le due strade come dire violenza assoluta o collina dolce da salire dipende da te che ore sono? 4 e mezza ok riprendiamo con il portfoglio di Giuseppe Pollonio ok allora io mi interesso di cose sedimentate che a volte possono essere sedimentate lentamente nel tempo oppure possono essere delle stratificazioni qualcosa che si accumula a livello di informazioni in maniera molto veloce e in forma di quindi direi sono delle espressioni di getto qualcosa che viene in maniera immediata per specificare questo parlo prima di una indagine che io sto portando avanti da un po' di tempo sul fuoco inteso come uno strumento pittorico quindi voglio cercare di capire se effettivamente col fuoco che sento come dire istintivamente qualcosa che a me ha fine come elemento primordiale se con questo riesco ad esprimere anche la profondità di alcune caratteristiche dei soggetti che rappresento che in genere sono o figure umane o paesaggi che spesso intendo come una molteplicità o qualcosa che diventa il condensarsi la coincidenza di più fattori che sono diciamo di tipo culturale ambientale di una persona non vista mai come un corpo o qualcosa di solo fisico ma appunto come una molteplicità qualcosa che è fatto di tante informazioni accumulate nel tempo la cosa che mi incuriosisce a questo livello della mia ricerca dell'uso del fuoco che sta prendendo diciamo lo sta rendendo per me un elemento emblematico è il fatto che stranamente passando da quello che era il mio strumento di lavoro diciamo molto datato che era la matita il disegno lo pratico da sempre al fuoco ho notato che la resa del fuoco mi affascina per il per la sua lavorare sul supporto diciamo che a differenza delle classiche tecniche pittoriche invece che aggiungere un materiale su un supporto possa essere olio acquarelli o altro in questo caso io lavoro direttamente modificando lo stato stesso del supporto che nella maggior parte dei casi sono delle tavole in legno quindi modificando proprio la fibra del legno il fuoco in realtà invece che sovrapporsi penetra nelle fibre e mi dà la sensazione di lavorare dal di dentro non so come dire come tirar fuori qualcosa che sta già dentro al legno stesso facci vedere qualcosa ma prima c'è una parte dello statement che dice non so quanto i miei lavori appartengono alla categoria di pittura o di scultura perché invece che ottenere immagini mediante aggiunta di materiali vari su un supporto le produco attraverso un cambiamento dello stato del supporto stesso ok vorrei ricordarvi Alberto Burri così tanto perfetto facci vedere qualcosa allora però devo completare quel discorso perché alla fine mentre 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 ci fai vedere le immagini lo completi siamo costretti a un'attenzione questo è uno dei lavori di quest'anno intanto vuoi completare il discorso completo volevo dire questo che usando il fuoco a un certo punto ho sentito che avevo dei limiti dal punto di vista espressivo in quanto la lentezza dell'agire proprio del fuoco come strumento di scrittura condizionava molto cioè rendeva molto rigidi e chiusi i miei lavori io ho bisogno di una dinamicità maggiore perché comunque in certo punto ho sentito proprio l'esigenza di far partecipare di più l'utente finale nella stesura di questi lavori che spesso come in questo caso di questa tavola nascono da schizzi invece a pennino che sono una sorta di scrittura automatica che viene in maniera molto veloce rispetto a poi invece la sua traduzione la sua cottura diciamo in forma di fuoco questo però non è fatto solo col fuoco sì questo è fatto diciamo tutto quello che non è segnato inciso è fatto con un cannello con un lanciafiamme con cui però disegni di fatto cioè il disegno la prunitura del fondo diciamo è fatto così no ma le figure come sono fatte le figure poi sono fatte invece usando il pirografo che è uno strumento diciamo che traduce il calore lo concentra su una penna incaldecente lo dico perché magari non l'ha mai incontrato e diventa un strumento di incisione nonché brunitura e si può disegnare questo e quindi questo lavoro recente mette insieme delle caratteristiche poi magari faccio vedere su dei lavori precedenti di lavoro su un segno più grafico più appartenente al mondo dell'illustrazione più fumettoso che appunto nasce di getto rispetto invece a dei lavori più datati che nei quali io usavo come fonte di ispirazione principale dei lavori fotografici ti consiglio di abbreviare i preamboli e farci vedere immagini scusami no no io questo è qualcosa diciamo che appartiene ancora a questa categoria quindi sempre trattando la figura delle persone ma intese sempre come qualcosa che va nelle relazioni fra le persone quello che succede a livello più culturale e relazionale d'ambiente non chiuso sulla persona posso far vedere forse a questo punto invece che parallelamente a questa ricerca molto più affine a quel segno diciamo di partenza più fumettoso io sto facendo sto cercando un modo di far diventare quel segno che sento maturo insomma che è qualcosa che viene da un lavoro un po' più datato qualcosa di performativo qualcosa che posso mettere in atto come dire con le persone davanti quindi qualcosa di molto più veloce più di getto in questo caso questa fotografia è un lavoro che abbiamo fatto durante quattro giorni con altri artisti in una galleria dove le pareti sono state interamente contaminate da questi disegni che per me sono una sorta di tessitura che inizia da un punto io non so dove vado a finire e appunto io lo definisco scrittura automatica ma forse non è un termine che rende ancora bene l'idea è una tessitura che in genere come elementi predominanti contiene delle immagini di architetture vediamo lì da vicino perché altrimenti non capiamo allora aprile tutte aprile tutte con l'anteprima altrimenti ogni volta devi passare da una foto all'altra questo è il lavoro finale di quell'intervento una parete di 5 metri alta 2 metri e mezzo ricoperta di carta ed è uscito fuori questo elemento che è figlio di una serie invece di città che io l'ho chiamato Rizzomi che è coniando un termine un po' inventato ma proprio per no forse non è corretto grammaticalmente però viene da Rizzoma insomma che è invece un termine chiaro però per appunto indicare l'idea di una un'immagine di città che io che io ho che è fatta appunto di elementi che non sono necessariamente architetture non si limitano alla rappresentazione di edifici ma la città è immaginata appunto come una molteplicità di una sorta di paesaggio culturale qualcosa che contempla anche gli abitanti della città gli oggetti è un modo di fare anche di vivere quella città ovviamente riferimento a Italo Calvino le città invisibili queste cose qua sono dei punti di partenza poi ho cercato di farlo di contaminare questa cosa qua con una certa una certa vicinanza con i cartoni di Miazaghi piuttosto che il segno di Mebius cioè immaginati fantastici in cui si respiri questa apertura del segno questi sono i dettagli di i vari pezzi di questa l'idea che cerco di mantenere in questi disegni è proprio la contraddizione continua di giusta posizione di elementi stridenti che non necessariamente abbiano un'affinità diciamo come dire di contenuto ma magari semplicemente una suggestione formale piuttosto che altre cose ma che per me è importante che comunichino qualche modo al 2010 il punto di partenza di questa ricerca è il 2013 e ci sono tutti i lavori di pirografia che però non appartengono a questo discorso però ne abbiamo visti poco i lavori di pirografia bisogna vederli questo è un ritratto di Pinuccio Sciola non so se conoscete uno scultore sardo è quello che fa suonare le pietre costruisce grossi monolini insomma uno scultore che ho avuto modo di conoscere che insomma con cui ho avuto uno scambio e qui è un tentativo di mettere insieme un po' questo atteggiamento questo segno più fumettoso più di getto che comunque è fatto di molti elementi nel racconto di una persona per cercare di ovviamente io ancora non sono particolarmente soddisfatto di questi lavori uno non devi dare spiega per ogni singola cosa noi dobbiamo capire il senso generale del lavoro per cui già sappiamo che ci sono due tipologie di lavoro una è fatta con l'elemento fuoco pirografo l'altra è disegnativa ok non ci spiega questo vabbè non dobbiamo sapere ogni singolo lavoro cosa è ispirato ci interessa la meccanica generale vediamo dove si è andato rizomiche rizomiche queste questa serie è nata proprio intanto questi a differenza del lavoro precedente sono dei lavori su una 4 quindi una dimensione molto piccola sono delle miniature sempre a pennino dove faccio così ok questo è il punto di partenza di questo discorso appunto mi interessava l'idea di comunicare l'essenza della città contemporanea che secondo me è una come dire è una moltitudine è difficile pensare oggi alla contemporanea alla città contemporanea se non in termini di come dire non come oggetto non come forma definita è difficile dare un'idea formale della città perché appunto è qualcosa che è sfuggente il disegno a tratto per me è importante perché dà l'idea forse della permeabilità di questi discorsi potrebbero essere aggiunti altri pezzi e continuare all'infinito su questi che io reputo una sorta di bonsai di città non so come dire cioè sono delle piccole cose che poi hanno portato a quel disegno sulla parete un po' più evoluto e la l'evoluzione di questo disegno appunto è quel lavoro sulla parete che per me mi piace pensarlo come una sorta di tessuto al telaio non so come dire un segno che inizia e potrebbe contaminare tutto quello spazio ok finiamo ti interrompo perché già abbiamo abbastanza elementi e tu hai la tendenza a entrare troppo nel dettaglio devi ricordarti che la sintesi è una cosa molto importante perché la sintesi significa efficacia ok feedback ho notato parecchie cose durante questa tua presentazione cioè la prima è che ti soffermi moltissimo sull'aspetto tecnico con cui hai realizzato e con cui stai realizzando segnare questa serie di disegni e di pirografie poi non so quando hai parlato di scrittura automatica mi è venuto in mente ovviamente il surrealismo che non sapevi come definirla questa cosa qua hai detto però esiste questa cosa nel surrealismo si chiama disegno automatico ci sono tanti esempi per esempio il cadavere squisito più o meno anche se collettivo è un esempio di questa operazione e infine poi questa tua analisi sull'urbano io non l'ho percepita per esempio non l'ho percepita perché secondo me è una una città è una è una collettività quindi un insieme di tante tante singole cose qui invece vedo molta compattezza e molto come dirti cose quasi singole sono dei disegni che rappresentano cose singole e quindi non la città quindi per concludere diciamo che non è chiara questa cosa della città nel modo in cui l'hai spiegato anche perché secondo me non hai sfruttato il titolo che hai dato e quindi non si capisce perché tu abbia dato quel titolo cioè hai faticato a spiegare la tua visione di città io sentivo proprio un rumore il rumore lo stridio dell'arrampicamento sugli specchi nel senso che so che tu sai che cosa vuoi dire ti segnalo un limite espressivo in realtà se tu partivi semplicemente dal titolo rizomica e dal suo collegamento con rizoma spiegando che cos'è il rizoma non necessariamente andando a pescare delle oesma comunque spiegando che cosa significa rizoma e adeguando questo significato a una tua idea di crescita della città potevi introdurre il tema della crescita come organismo potevi introdurre l'idea di una crescita non lineare non in senso puramente urbanistico architettonico ma una crescita che è organica e quindi più simile alle meccanismi di proliferazione degli organismi perché rizoma è un elemento radicale della struttura vegetale è la parte da cui crescono ulteriori escrescenze non è necessariamente solo la radice rizoma però si allude al rizoma per indicare quella crescita e quel tipo di proliferazione che pare e che apparentemente è caotica cioè non sembra avere una struttura anche se poi una struttura ce l'ha cioè le tue città tu sei partito con dei riferimenti che sono anche molto abusati nel mondo dell'arte Calvino e le città invisibili un po' come le elezioni americane non si negano mai in un testo critico come dire così come qualche tempo fa Deleuze e Guattari da quello che abbiamo capito c'è qualcun altro che vuole dire perché se no faccio un intervento fiume vi annoio a morte ve lo giuro niente? sì c'è qualcuno tu? forse sono una notazione di senso grafico è spento due click ma perché non lo tenete acceso e basta? aspetta ecco tenetelo acceso e non toccate niente a bimbi dai rispetto al segno mi sembra legato comunque ad un immaginario forse un po' datato però potrebbe essere anche un vantaggio nel senso che un segno lo vedo molto anni 70 mi rimanda quel periodo gli anni 70 non so perché ma forse la psichedelia è corretto c'è un elemento anni 70 nel segno nel segno ok passa dietro che c'era una persona che voleva intervenire io volevo dire che a me piace molto l'idea concettuale no no a livello concettuale trovo molto interessante a livello concettuale trovo molto interessante l'idea ma è povera secondo me di tecnica perché sembrano più delle bozze verso un lavoro più grande che si potrebbe fare perché è molto fumettistico ci sono molti artisti che si occupano di città urbane però lo fanno in maniera così allucinante con opere gigantesche che rimani affascinato più che altro da quanto è complesso il lavoro che c'è dietro per rappresentare la città perché la città comunque magari se la vedi dall'alto da un satellite è molto molto complessa e minuziosa e non è rappresentata né in questi disegni fare nomi please lo so lo stavo cercando su internet un artista giapponese che l'ho trovato su iFructose però non ricordo bene come si chiama iFructose è una rivista americana perché non lo sapesse e niente trovo anche molto interessante il fuoco però forse ancora incompleto a livello di forse che stai ancora cercando la tecnica per migliorarlo però è molto interessante come via per rappresentare le tue idee lo aiutiamo ad orientarsi questa scissione in due parti del lavoro che considerazioni si possono fare cioè la parte diciamo birografica e quella disegnativa secondo me non c'è continuità nei due lavori ed è un fatto a mio avviso molto importante perché se cerchi di fare quanto meno le cose diciamo di seguire un certo discorso devono seguire appunto lo stesso segno lo stessa le stesse cose diciamo così quello che mi sembra ok allora io posso qualcun altro? hai fatto alcuni errori durante la presentazione allora il primo errore ti è stato segnalato è l'avere insistito sull'elemento tecnico come elemento di novità ricadendo in quella in quel misunderstanding tipico di chi mette in primo piano il medium rispetto al contenuto formale linguistico cioè tu hai detto la cosa del fuoco come l'hai usato io ti ho ricordato brevemente Alberto Burri e tu potrai dire che Burri faceva in un altro modo ci sta però Burri ha sviluppato mentre faceva le convulsioni un discorso formale un linguaggio ci sono anche altri che usano il fuoco figurati per esempio virando l'aspetto pirografico sull'illustrativo c'è un'artista italiana che vive all'estero che si chiama Nicots Balboa che fa sì Demets siamo in scultura è un'altra cosa e poi quale Demets ce ne sono perlomeno 4 usa il fuoco recentemente usa il fuoco sì è vero però non riguarda molto il suo ambito lui è bidimensionale essenzialmente Nicots Balboa su come usare la pirografia a livello illustrativo Giovanni Manfredini è un artista che lavora col fuoco a partire tra l'altro da una sua drammatica esperienza personale lavora con la galleria 8 di Bologna lui usa il nero fumo il nero fumo per fare le tele esatto il risultato è un lavoro in bilico tra strazione e figura lui parte da quello perché è stato figurato da giovane dal fuoco quindi porta ancora i segni del fuoco quindi ha utilizzato questo elemento strettamente personale biografico tra l'altro è una persona veramente molto affascinante e al di là del fuoco insomma del fatto di avere di portare i segni del fuoco è molto affascinante direi anche uno sciupa femmine quindi come dire questo lo dico perché un elemento positivo indica una grande personalità sotto quindi guardare Giovanni Manfredini guardare Nicots Balboa per quanto riguarda l'aspetto del trasporre il disegno sulla parete quella tendenza all'horror vacui il riempimento a partire da un punto iniziale senza aver predeterminato una direzione quindi disegnare fino a che si riempie la cosa non sapendo già dove arriverai quello è comune per esempio anche a molti street artisti quello che vi ho menzionato stamattina credo è che ha fatto enormi murali che si fa pagare non poco zio Ziegler di cui ho curato la mostra da Antonio Colombo a Milano io l'ho visto proprio realizzare queste cose lui fa dei graffiti che sono in bianco e nero quindi praticamente disegna con la bomboletta cioè tratto nero su fondo bianco e riempie intere pareti fa delle figure che hanno vagamente una un allure tribale diciamo quindi stilisticamente è diverso dal tuo tipo di approccio però utilizza quella cosa cioè parte da un punto qualsiasi e poi riempie questo è l'horror vacui la tecnica surrealista del cadavere squisito quello che volete però principalmente è riempimento invece per quanto riguarda il tratto disegnativo che qualcuno notava avesse un aspetto così vintage cioè un po' anni 70 c'è un artista italiano che si chiama Giovanni Maranghi che nel disegno ti somiglia molto in alcuni tratti nel senso che tu hai una tendenza modernista dentro il disegno e poi hai degli scivolamenti vintage per esempio questo che stiamo guardando con le scarpe lì si vede veramente poco rispetto qua però mi fa venire in mente c'è un artista sempre di ambito pop surrealista che si chiama Jeremy Will che fa tutto un lavoro sulle visioni urbane con personaggi di fantasia anche dentro organizzati proprio come delle vignette però rappresenta spesso la città i quartieri di New York e potrebbe essere interessante perché è molto grafico anche lui cosa manca qua? qua manca il collegamento tra le due sezioni creative cioè pirografia e disegno è vero che tu nelle cose col fuoco poi hai la tendenza a mettere il disegno dentro utilizzando appunto il pirografo però forse è più interessante il discorso che facevi sul supporto sulla modificazione del supporto attraverso il fuoco e sembra quasi che l'introduzione del disegno dentro quella cosa lì sia un elemento almeno a me appare come un elemento che appesantisce la cosa cioè l'introduzione di un elemento di dascalico quello del disegno illustrativo dentro una dimensione di lavoro invece sul materiale c'è questa indeterminatezza nel tuo lavoro non sai se muoverti sull'indagine del materiale e non sai se questa si possa sposare bene con l'indagine sul segno quindi c'è una scissione una suddivisione devi trovare una soluzione per questa cosa è chiaro che le due cose insieme funzionano poco allo stato attuale quindi o ti dedichi molto a quella cosa lì fino a che non trovi una soluzione formale adeguata cioè come posso integrare il disegno con quel discorso sulla tavola che viene trattata attraverso il fuoco oppure li separi nettamente ma allora uno è un lavoro sui materiali e l'altro è un lavoro sul segno e continui con il disegno e con le pareti però bisogna che tu ti vada a vedere le persone che fanno questo genere di lavoro e che tu ti ispiri o che vedi come loro risolvono alcuni problemi formali attraverso il disegno perché ci sono delle cose buone qua dentro però ci sono anche dei momenti di debolezza dei cali di tensione alcune immagini sono più riuscite altre meno è normale questa secondo me è più riuscita di altre altre sono poco riuscite su quelli in cui utilizzi il pirografo è come se non avessi ancora raggiunto una maturità pressiva intendo non so la cosa dipenda non so con quanta frequenza tu fai quei lavori certo è che al momento attuale anche se tu ci hai lavorato molto entrambe le parti mantengono degli elementi non convincenti quindi vuol dire che devi lavorarci di più forse devi lavorarci ogni giorno io consiglio che tu lavori solo su una cosa per un certo periodo di tempo che tu tenga uno sketchbook che è la tua disciplina e che se tu manchi all'appuntamento col tuo sketchbook quotidiano tu ti senta veramente miserabile ok è sempre con te ma lo usi tutti i giorni allora devi trovare devi fare in modo che l'automatismo ok che l'automatismo del segno abbia degli elementi controllati cioè devi cercare di controllare di più il segno e di guidarlo di più non essere più così spontaneo lo dico come cura perché fin qua sei stato spontaneo allora bisogna cercare di essere più spontaneo ancora allora devi liberarti ma devi mantenere degli elementi di qualità nelle singole immagini che proponi e per quello ci vuole la tecnica se tu sei passato attraverso quella fase ipertecnica dell'autodidatta allora sai che all'interno di queste cose tu devi raggiungere una coerenza nel racconto cioè se mantieni questa qualità cioè qua sotto le scarpe questa definizione non si capisce perché qua la perdi cioè qui sotto cioè lui la mantiene qua un certo tipo di descrizione di dettaglio e qui lo perde io non sono sicuro che qua ci sia più qualità che là per niente io sono convinto che c'è più qualità là dove sei maggiormente dettagliato diciamo che io posso volentire spesso delle soluzioni volumetriche e prospettiche abbastanza precise con un segno esclusivamente bidimensionale quasi subvotato proprio per suggerire anche una possibilità di completare di avere una diffusione magari pensare che qualcosa che sembra spaziale di profondità possa anche non esserlo o ridurre al minimo i temi indispensabili per capire però questo messaggio non passa quindi vuol dire che non lo stai comunicando bene ok allora gli ultimi minuti per dire quel famoso esercizio che vi ho dato l'avete fatto tutti gli esercizi a casa che cosa vi ha mosso fare quell'esercizio lì se qualcuno mi risponde il microfono è a disposizione è stato più facile immaginare cosa cosa si aspira diciamo che magari guardare al passato sì senz'altro forse anche perché nel mio caso specifico la ricerca non è che sia lunghissima ho 22 anni quindi lo sforzo è cercare di trovare delle cose che magari abbiamo anche dimenticato qualcuno è riuscito a ricordare delle cose che aveva dimenticato e a valorizzarle ok bene io ho trovato panico sì eh sì no veramente normale panico 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 sui progetti futuri o sul passato no sui progetti futuri no perché comunque c'è chiarezza in quello che voglio più che altro cosa ho fatto di buono panico panico perché praticamente riflettere come si chiama questo esercizio che vi ho dato come si chiama il titolo di questo esercizio top ten eh top ten ok però il tema qual è autostima se tu non riesci a trovare motivi di stima dentro di te certo che ti viene il panico eh appunto eh no e li devi trovare il senso dell'esercizio è quello ora Margherita stasera vi manderà i prossimi tre esercizie ok tre bisogna farli per domani sì datele il microfono no ehm pensavo che questi esercizi in realtà a parte il fatto di farli ieri o quando ce li dai che forse ogni tot di tempo sarebbe bene rifarli certamente ma secondo voi io mi fido della vostra volontà io non sono neanche sicuro che voi farete il portfoglio dopo che io me ne sarò andato dovete farle queste cose sì sì no vabbè poi ognuno se la vede voglio dire esatto ve la vedete voi io ho fatto il mio dovere e me ne lavo le mani poi no veramente fate queste cose prendete i libri che vi ho detto uno alla volta ogni tot avrete tutti dei compleanni degli onomastici c'è il Natale fatevi regalare invece di farvi regalare sciocchezze fatevi regalare i libri invece di andare a spendere soldi agli aperitivi ci andate un po' meno e vi comprate il libro su Amazon trovate quei libri anche usati che costano meno su Amazon America costano ancora meno quindi si può fare ok perplessità sulle esercizi fatti domande curiosità no in realtà io ci ho passato parecchio tempo sia ieri sera che questa mattina non rileggevo rileggevo però più che il panico avevo un senso di vuoto proprio vuoto vuoto quindi ho passato tipo un paio d'ore questa mattina a stare così e quindi vabbè è sempre un prendere coscienza della condizione in cui uno si trova per carità così impari così impari va bene e quindi dicevo a volte può essere che magari individualmente ognuno di noi abbia bisogno di tempi magari diversi per questo implica una certa velocità di esecuzione perché sono capaci tutti a stare due giorni su quella roba lì e a trovare delle cose la verità emerge su quello che ti viene in mente subito cioè perché vuol dire che nel tuo quotidiano alcune cose ti sono presenti se non le trovi vuol dire che non ti sono proprio presenti non hai idea di cosa hai fatto di buono ma qualcosa hai fatto di buono possono anche essere piccole cose non devono essere la mostra al Mo ma ripeto può essere una piccola cosa quella volta che ho imparato a usare bene l'acquarello quella volta che sono uscito dai miei soliti schemi e sono andato a vedere la mostra di un genere che non mi piace e invece ho fatto bene e ho imparato qualcosa di nuovo cioè è questo il senso quali sono quelle cose in passato che posso dire che sono state mie piccole conquiste e che posso ricordarmi oggi per avere l'atteggiamento e l'attitudine di continuare a fare piccole conquiste e anche grosse conquiste io mi auguro quindi stasera avrete da lavorare andate a casa presto quelli che hanno le mostre dopo la mostra due bevutine e poi andare ecco curiosità perplessità domande sulla lettura del portfoglio abbiamo ancora nove minuti no 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 in nove minuti nessun portfoglio passate io volevo fare una domanda specifica per quanto riguarda le serie di fotografie o elementi e l'installazione cioè come poterle presentare nel portfoglio poiché cioè per quanto io ho cercato personalmente di fare sintesi e racchiudere tutto in un'unica foto è veramente impossibile soprattutto in che senso racchiudere tutto in un'unica foto cioè riuscire a presentare magari un'installazione con una sola foto che potesse allora io non l'ho detto perché pensavo che ci fosse del buon senso in voi io sbagliavo l'installazione la visione d'insieme è necessaria no fosse anche non così dettagliata cerchiamo di usare il più spazio possibile va da sé che possono seguire una serie di dettagli cioè questa è l'installazione e poi faccio vedere il dettaglio A il dettaglio B il dettaglio C è ovvio nessuno pretende che voi abbiate un foglio alla grande si si hanno più le questioni tecniche cioè questo risultava ovvio anche a me tecnica cosa è che ad esempio se siccome lei comunque ci ha indicato un sacco di soluzioni tecniche nel senso ad esempio mettete il il nero al 70% piuttosto che questo genere di questione non so se ad esempio avevo dei dubbi sul fatto di mettere più immagini sullo stesso foglio potesse consegnare una visione più unificativa oppure mettere immagini su fogli separati in modo che cioè non c'è una regola generale chiaramente dipende dal tuo buon gusto e dal tuo buon senso ovviamente se vedi che funziona bene vuol dire che funziona mettere tante immagini o mettere come dire la visione insieme il dettaglio nella stessa immagine se vedi che non funziona e non ti piace puoi creare una serie di dettagli messi insieme e l'immagine invece principale a parte chiaramente sta a te non c'è una regola in questo diciamo che la regola è che al tuo sguardo e allo sguardo di chi ti sta vicino si deve avvertire un'efficacia della cosa cioè se funziona hai ragione tu se funziona anche se non è come dico io hai comunque ragione tu ok cioè io do delle regole generali se mi smentite va benissimo se funziona meglio come avete pensato bravi vuol dire che imparo qualcosa anch'io e posso anche suggerire la vostra variante ovviamente se vi servono immagini grandi preferite la 3 che non la 4 cioè andate su una versione di portfolio io i migliori che ho visto erano in a 3 sia orizzontali che verticali chi ha voluto mettere delle foto vere e proprie l'ha fatto come ho detto io cioè appiccicando la foto sul cartoncino alla maniera vecchio fmr o sellerio per intenderci quindi si può fare tutto purché funzioni se non funziona con le chiacchiere non ci facciamo niente con la teoria non ci facciamo niente altro? niente siete asciugati eh oggi non ce la fate più va bene io mi raccomando la questione dei libri mi raccomando la questione della frequentazione delle mostre mi raccomando di fare il portfolio come vi ho detto di fare o come risulta più efficace cioè la questione non finisce domani quando finiamo il corso appena è iniziata e tante cose devono ancora trovare la giusta strada e farsi largo tra la selva dei pregiudizi che voi stessi avete coltivato in tanti anni quindi l'importante è che iniziate a prendere coscienza che alcune di queste cose che pensavate non sono vere e soprattutto non sono utili la questione del denaro avete visto che tipo di reazioni può suscitare il fatto che l'arte deve avere a che fare col denaro e l'altra cosa è che che sia sufficiente volgere lo sguardo al proprio interno e coltivare la propria visione senza il rapporto con gli altri per sviluppare un buon lavoro non è così bisogna guardare bisogna imparare bisogna studiare bisogna rubare ok il lavoro dell'artista è un lavoro 24 hour a day non finisce mai anche mentre state cucinando anche mentre state facendo altre cose della vita quotidiana voi siete sempre artisti non c'è l'angolo dell'artista il momento dell'artista lo siete sempre ma certamente non lo siete se non fate e non producete arte ogni giorno quindi non potete essere artisti nella vostra testa e basta dovete essere artisti perché ogni giorno voi ricavate uno spazio per fare e tutto il resto è per preparare quel fare per pensare quel fare e per arricchire quel fare di idee che avete accumulato durante la giornata ecco perché è buona norma che voi teniate un carnet di note o di appunti o uno sketchbook costantemente la disciplina vi renderà liberi l'indisciplina vi renderà schiavi se siete disciplinati questo è già un sintomo di forte volontà se siete indisciplinati implica già che non avete voglia di fare e che non avete intenzione di fare volete solo essere scoperti da qualcuno e vi raccontate la favola che voi avete fatto il possibile per ottenere dei risultati non funziona così voi dovete ottenere i risultati poi se qualcuno vi scopre tanto meglio però non raccontatevi la favoletta ok la messa è finita andate in pace grazie a tutti grazie a tutti